Tirano terra di castelli e fortificazioni. Dal cinquecentesco castellaccio che domina la città dell'Adda si intraprende il percorso tra sentieri e mulattiere, che si inoltra nei boschi della sponda aerobica e che, in due ore di cammino, conduce ad un altro più recente ma non meno suggestivo monumento, il Forte Canali, intitolato alla medaglia d'oro al valor militare Antonio Sertoli, caduto sulle Alpi Giulie durante la Prima Guerra Mondiale. La possente struttura, costruita poco più di un secolo fa, oggi si mostra nel suo fascino decadente ai margini di un pianoro in posizione strategica di fronte alla Valposchiavo raggiungibile dalla gittata dei suoi cannoni. In realtà questo presidio non fu mai impegnato in azioni di fuoco, anzi i suoi pezzi d'artiglieria furono ricollocati dove più servivano per contrastare il nemico, ovvero sul fronte del Carso. Benché occupato da una guarnigione di guardie di frontiera, il Forte restò inoperoso durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 49 il Ministero della Difesa ne decise lo smantellamento. Da allora, nonostante lo sforzo degli alpini di Tirano di prendersene cura, il Forte versa in uno stato di abbandono, sempre più sommerso dalla vegetazione, che è cresciuta ovunque riempiendo il fossato. Tesi di laurea hanno svolto progetti per il suo recupero. Un sogno forse non impossibile, dato che la struttura, pur se intaccata da decenni di incuria, resta integra. Ridar vita al Forte Sertoli significherebbe ridare valore ad un luogo patrimonio della storia valtellinese. Il Forte era completato da altre strutture poco lontano, la diacente palazzina a comando, le stalle e le cucine, la casa degli alloggi degli ufficiali, oggi un rudere. A due chilometri l'Alpe Piscina, fino a qualche decennio fa località di soggiorno estivo con locande e un negozio per residenti e villeggianti, ospita un'altra struttura militare, la caserma divenuta colonia per ragazzi negli anni 50 e 60. Da Piscina il percorso può proseguire fino al suggestivo nucleo di San Rocco, nel comune di Villa di Tirano, con la sua chiesa cinquecentesca a dominare la valle.